A campo Fifi sulla destra larga, il suo piede destro è educato per mettere un buon pallone, così è sul secondo palo arriva il gol! Fifi per il 2-2 del Milan, il suo piede è educato, non educatissimo, questo forse era un traversone, tant'è, il pallone è finito alle spalle di Cesar, 2-2 Milan, 7-2!